Zona rossa fino al 6 gennaio ad eccezione di lunedì 4, poi l'Italia tornerà a dividersi in fasce. Dunque da oggi e per la prima settimana del nuovo anno misure molto stringenti ma dal 7 non sarà un liberi tutti. Ad ogni regione un colore assegnato sulla base dei parametri stabiliti dal comitato tecnico scientifico d'intesa con il governo. Tra le spie principali c'è l'indice RT ovvero il tasso di contagiosità accompagnato dalla tenuta del servizio sanitario e dalla capacità di contact tracing e la Sicilia così rischia di rientrare in zona arancione. L'RT in questo momento sfiora l'1 e il tasso di positività non scende sotto il 10 per cento dati che si traducono in un rischio moderato per l'appunto di colore arancione. Si va dunque verso le restrizioni già in vigore nell'isola a novembre. In questo scenario non sarà possibile entrare o uscire dalla regione né spostarsi tra un comune e l'altro se non per comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità. Non si potrà consumare in bar o ristoranti con la possibilità di domicilio o di asporto fino alle ore 22. Palestre e piscine resteranno chiuse per i mezzi di trasporto pubblico. La capienza sarà ridotta al 50 per cento e anche in Sicilia come in tutto il territorio nazionale resta fermo il coprifuoco dalle 22 alle 5.